vedete vedete cari amici lo vedete questo post che sta su facebook intitolato la morte è il più clamoroso equivoco della storia umana io l'ho condiviso l'ho condiviso e scrivendo la morte non è un equivoco che sa è una realtà si ritorna sempre sulla questione perché noi umani abbiamo la coscienza e la coscienza è un organo un organo un organo terribile terribile coscienza nel suo significato etimologico vuol dire consapevolezza cioè noi umani abbiamo la consapevolezza di esistere di essere di essere al mondo essere al mondo abbiamo la consapevolezza di nascere e poi la consapevolezza che dobbiamo morire e questa è una brutta terribile consapevolezza per cui facciamo di tutto facciamo di tutto per eludere il problema della morte e qua si arriva a dire che la morte è il più clamoroso equivoco della storia umana e si elude la morte anche con le religioni che ci parlano dell'aldilà dell'aldilà ma qua si dice che c'è di mezzo la scienza capito ma no ma no ma non è vero non è vero è la paura della morte che ci fa ci fa dire certe cose la scienza non c'entra niente non c'entra va bene cari amici avrete già capito che io sono Serafino Massoni e queste sono le mie opere a tutti tanti cari saluti da queste meravigliose opere